in collaborazione con autonoleggio alidama qualità e assistenza nell'autonoleggio i due re ristorante pizzeria lungomare piermanni civita nova marche non è un po' di mercato preso giuliano non è proprio sullo film del calcio mercato firmato e orientale e questo è Buonasera e ben trovati amici telespettatori con l'ennesimo appuntamento delle Marche nel Pallone Tempi Supplementari, il contenitore che tutti lunedì sera dedichiamo alla promozione. Oggi abbiamo qui con noi ospiti gli amici dell'Osimo Stazione, andiamo subito a presentare vicino a noi l'allenatore Gianluca Fenucci. Buonasera. Buonasera e alla nostra sinistra il difensore Paolo Gigante. Buonasera. Buonasera. Allora Gianluca partiamo con te con questa Osimo Stazione. Sabato abbiamo ripreso il big match, il derby con l'Osimana, poi vedremo anche le immagini. Io nel servizio ho parlato di un Osimana che ha vinto con merito ma anche un Osimo Stazione che è uscita assolutamente a testa alta. Sì, penso che la disamina che hai fatto è corretta. Noi obiettivamente avremmo dovuto fare una partita proprio perfetta per uscirne fuori con dei punti. Ci siamo quasi riusciti, poi nell'unica disattenzione magari che potevamo evitare perché tre o quattro volte hanno colpito dentro l'area con uomini abbastanza liberi. Ci hanno fatto gol ma insomma la qualità dell'Osimana non è che la scopro io. È una partita che mi lascia comunque soddisfatto. I ragazzi devono essere sereni, hanno fatto una buonissima partita, hanno controbattuto sempre. Non si sono fatti mettere sotto né tanta soggezione dall'Osimana ma abbiamo perso contro una squadra più forte e c'è poco da dire. Ecco, Osimo Stazione che sta rispettando un po' i piani dell'inizio stagione, direi, cioè quello di valorizzare i tanti ragazzi, i tanti giovani che arrivano dal settore giovanile, principalmente al settore giovanile locale e ovviamente cercare di mantenere la categoria. Ma sì, del resto era quello che mi hanno chiesto, di provare a mantenere la categoria ed è secondo me la prima cosa. Poi dopo vedremo se riusciamo a fare qualcosa di più, ben venga perché poi come dicevo sognare non costa nulla. E poi far giocare tanti ragazzi che sono del posto, non solo quelli che adesso sono under, diciamo, che poi nelle ultime due settimane per esempio ne abbiamo fatti debuttare due. 2004 a Sassoferrato Gelli e domenica scorsa Zenoni, sono due prospetti interessanti che giocano principalmente con la Juniorers, però ci sono tanti ragazzi del posto che giocano stabilmente e che non sono magari solo under, ma tanti under, non so, Ippoliti, Testoni, Polenta, Marconi, poi stessi Taddei, Cucinella, sono tutti ragazzi un po' del territorio, quindi bisogna essere molto contenti, bisogna non abbassare la guardia perché è un campionato molto tosto e forse non me l'aspettavo neanch'io così equilibrato, a parte l'Osimana, quindi non bisogna abbassare la guardia ma noi siamo fin qui abbastanza contenti. Ecco, è un torneo dove può succedere un po' di tutto, no? Lasciamo da parte il primo posto che l'Osimana con merito ha e con ogni probabilità riuscirà a difenderlo fino alla fine, a meno di cambiamenti da qui alle prossime partite, le prossime settimane, però dal secondo posto in poi, compresa la zona play-out, siete davvero tutte vicine e date anche la sensazione, ogni partita insomma da un esito non scontato, diciamo da tripla, va? Ma sì, indubbiamente è così, del resto l'Osimana si sapeva che aveva un organico qualitativamente un po' superiore, poi dopo come dicevo a Giacomo quando mi diceva secondo te che dobbiamo temere, devono temere solo magari loro stessi, gli infortuni, gli incidenti di percorso che ci possono essere. Per quanto riguarda il resto del lotto, è vero, c'è molto equilibrio, ci sono secondo me le squadre molto buone e però si può vincere, si può perdere con tutti, noi abbiamo vinto partite difficili quando, non so, col Barbaro, col Passatempo, quando erano più in alto di noi, molto più in alto di noi, abbiamo vinto a Filottrano che è un campo difficile, all'inizio eravamo partiti un po' in sordina ma ci sta perché con un gruppo completamente nuovo e dopo tanto che non si giocava era anche abbastanza comprensibile, però adesso abbiamo acquisito una fisionomia, un'identità, siamo secondo me diventati una squadra vera. Paolo, Sabatos è stato protagonista in campo, anche capitano per l'occasione in questa partita, innanzitutto che partita hai visto tu? È stata una partita molto intensa, già nel primo tempo, sapevamo noi di incontrare una squadra molto forte, per cui ci eravamo preparati secondo me bene, abbiamo difeso con ordine, ecco che è chiaro che le individualità poi davanti dell'Osimana in un'occasione hanno fatto la differenza e diciamo che anche la loro solidità difensiva poi ha reso difficile anche tentare la rimonta poi verso la fine, però secondo me abbiamo fatto una buona partita, una partita per quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre capacità, un'ottima partita. Sabato ti sei ritrovato davanti un attaccante che ha giocato anche in Serie A, Massimo Ganci, che impressione ti ha fatto? Sia lui che Buonaventura sicuramente sono attaccanti di categorie superiori, è stato un piacere, è stato anche divertente affrontarli e mettersi alla prova, perché comunque sono due giocatori che hanno fatto categorie superiori, noi dietro comunque considerando anche il portiere eravamo 3,98 e un 2001, quindi molto giovani, c'era una differenza di età notevole, che però allo stesso tempo secondo me da un punto di vista tecnico e tattico e fisico non si è vista troppo, però è chiaro che poi quando l'attacco dell'Osimana diventa incessante ci può stare questa sconfitta, noi sappiamo che della prestazione non ci possiamo accontentare e da sabato prossimo dovremo già ripartire per cercare tre punti. Senti, una bella soddisfazione direi che è quella di aver giocato praticamente quasi alla pari contro questa corazzata, da qui forse può ripartire un nuovo campionato per voi dove a oggi potete fare ancora tutto, dalla zona playoff alla salvezza diretta al purtroppo rientrare nei playoff. Cosa vi siete detti e cosa vi state dicendo nelle ore successive a questa sfida? Diciamo che ci sono stati delle sensazioni contrastanti, magari qualcuno diceva che abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo essere contenti noi ed è giusto, però allo stesso tempo c'è il rammarico perché comunque il risultato finale è quello di aver ottenuto zero punti. Sappiamo che, come ha detto anche il mister prima, noi abbiamo avuto un inizio di campionato un po' difficile e adesso abbiamo più consapevolezze e secondo me possiamo col lavoro continuare in questo trend positivo di fine girone d'andata anche nell'inizio del giorno di ritorno e poi è chiaro che il nostro obiettivo è salvarci con tranquillità e tutto ciò che può venire di più guadagnato. Allora, noi abbiamo parlato abbastanza di questa sfida tra Osimo Stazione e Osimana, io pregherei adesso alla regia di mandare in onda proprio il servizio. L'Osimana vince e convince, Osimo Stazione perde ma esce a testa alta dal derby. E' questo il assunto del big match del girone A di promozione andato in scena al Bernacchia, deciso nella ripresa da un guizio di Massimo Ganci. Obiettivi differenti e rose diverse, ma match aperto dall'inizio alla fine con i ragazzi di mobili che mettono un altro pesante mattone nella corsa alla promozione in eccellenza. Alla fine del girone di andata sono 9 i punti di vantaggio sulla Vigor Castelfidardo II e la sensazione è che difficilmente questo campionato possa sfuggire alla corazzata giallorossa. Andiamo alla cronaca del match. Al terzo minuto subito giallorossi vicini al gol con Prosman, uno dei migliori, con Sfera che termina di poco sul fondo. Siamo al dodicesimo, occasionissima per Micucci. Ben appostato dentro l'area, il laterale manda alto da posizione vantaggiosa. Doppia parata di un attento bottaluscio tra il sedicesimo e il ventunesimo, prima su Buonaventura e poi su Ganci. La coppia d'attacco giallorossa gioca bene e crea sempre grattacapi, ma anche in queste circostanze il numero uno non si fa superare. La prima e unica occasione dei locali capita a Marconi al ventiquattresimo, ma anche qui è attento Chiodini a non farsi superare. Il gol vittoria lo sigla al diciottesimo della ripresa Massimo Ganci. E' bravo il neo entrato Pasquini a creare scompiglio nell'area dei locali e mettere al centro per il bomber che da due passi non si fa pregare e mette il pallone in rete. La formazione di mobili riesce a gestire bene il vantaggio fino alla fine, rischiando il minimo sindacale e così, dopo quattro minuti di recupero, arriva il triplice fischio finale. A fine gara festa grande per i tanti supporter dell'Osimana al seguito della squadra. La capolista marcia forte e sempre più spedita, verso il massimo torneo regionale. Nel dopogara abbiamo sentito la voce dei due mister, Fenucci e Mobili, e quella del match winner Massimo Ganci. Eccoci con Gianluca Fenucci, mister dell'Osimo Stazione. Allora mister, una sconfitta a testa alta direi. Sì, a testa altissima direi. Poi i valori in campo si vedono. Noi abbiamo cercato di controbattere con la voglia, con l'entusiasmo, con la determinazione e con la freschezza anche dei giovani, però poi qualche volta vengono fuori anche i valori tecnici più elevati e anche di esperienza. Voglio fare i complimenti all'Osimana, in particolare a Alex Bonaventura, che ho avuto due anni alla Castelflottese e forse un po' ho contribuito anche a lanciare, ma sapevo che era un gran giocatore e in effetti si è confermato. Non solo lui, ma tutta l'Osimana. Noi abbiamo fatto il nostro, negli unici gravi errori che abbiamo commesso dietro è venuto fuori il gol. Gli abbiamo lasciato tre o quattro palle di seguito lì vicino alla porta, nell'area di rigore e questi giocatori qua non perdonano, però la prestazione dell'Osimo Stazione è stata buona e io sono contento dei miei. Ecco, lo spirito è sicuramente quello giusto. Avete giocato quasi alla pari, possiamo dire, contro una squadra che non c'entra assolutamente niente in questa categoria. Immagino che da domani potete ripartire con l'obiettivo ben preciso e con l'ambizione di arrivarci. Sì, noi dobbiamo far giocare i nostri giovani. Anche oggi abbiamo fatto debuttare un ragazzo del 2004, Zenoni, che è molto promettente, ha fatto benissimo quando è entrato, un centrocampista. Sabato scorso a Sassoferrato abbiamo fatto debuttare Gelli, un altro 2004 e poi giocano tanti di Osimo Stazione. Questo è un obiettivo. L'obiettivo altrettanto importante è quello di mantenere la categoria. Io sono sicuro che potremo farcela, perché la squadra comunque è cresciuta molto dall'inizio, stando insieme, giocando insieme, anche così, con i concetti giusti, con i principi giusti, con i valori, anche i morali giusti. Ripeto, sarà dura, perché questo è un campionato che io dico sempre un po' bastardo, perché è difficile. Eccoci con mister Roberto Mobili, oggi contento, come succede spesso ormai in questo inizio di campionato, un'altra vittoria, molto sofferta, ma direi comunque ampiamente meritata. Sì, penso che sì, anche se abbiamo giocato contro una squadra molto organizzata, che anche loro hanno fatto una buona partita, poi comunque il lavoro dei Fenucci si vede, lo conosciamo, quindi una squadra che ci ha tenuto testa, sicuramente stava una partita equilibrata, diciamo che noi abbiamo rischiato poco, le occasioni sono state poche da entrambe le parti, però credo che alla fine il risultato sia giusto e prendiamo questa vittoria, perché è molto importante, è un campo molto insidioso. Ecco, anche oggi avete dimostrato le vostre qualità, no? Sia nei singoli, con giocatori che obiettivamente c'entrano poco nella categoria, possiamo dire Brosman, la coppia d'attacco, Buonaventura Canci, lo stesso Patrizzi che è stato molto bravo in alcune circostanze dietro, ma soprattutto la sensazione di una squadra, di una squadra molto forte. Vabbè, lavoriamo per questo, diciamo che è al di là dei singoli, perché comunque con i singoli non si va da nessuna parte, credo che questi ragazzi che è citato, ma anche gli altri, sono calati bene nella categoria e ci vuole questo, perché il cambiamento di promozione è questo, non è che vai su tutti i campi e se vai in punta di piedi rieschi di fare figuracce. Oggi sapevamo che era una partita delicata, perché comunque giochiamo contro una squadra che stava bene, e però credo che l'abbiamo approcciata bene, siamo entrati in campo umili, abbiamo avuto pazienza, poi una giocata ci ha premiato e la portiamo a casa e credo che sia una vittoria pesante, adesso vedremo per il futuro, anche se, ripeto, è molto presto, il giorno è andata, è finito adesso, quindi c'è tutto il giorno di torno, quindi lo dice la Pro Stess. Eccoci con Massimo Ganci, match winner oggi di questo big match, il derby tra Osimo Stazione e Osimana, allora tu hai un curriculum molto importante, ti sei catapultato però bene in promozione, decisivo oggi con tante giocate oltre al gol. Oggi era importante dare continuità a tutti i risultati che abbiamo avuto nell'ultimo periodo, siamo stati fermi come tante squadre, come tutte le squadre, più di un mese, quindi la condizione fisica ancora ottimale deve arrivare, però ti ripeto, era importante dare continuità al risultato di domenica scorsa netto che abbiamo avuto 4-0, quindi oggi non era una partita assolutamente facile, ci siamo riusciti e direi una vittoria meritata. Rientriamo dunque in studio, allora Gianluca abbiamo visto le immagini di questo derby vinto dallo Simana 1-0, ti volevo fare una domanda sul ragazzo che mi ha colpito, Marconi, centrocampista, esploracelo un po'. Sì, è un ragazzo interessante, un ragazzo che ha gamba, forza, è un cursore diciamo, uno che predilige giocare sulla fascia, può fare, con noi fa più diciamo l'esterno offensivo, però secondo me può fare tutta la fascia se giochi per esempio tipo 3-5-2, può fare diverse cose, soprattutto se migliora un po' tecnicamente e continua a crederci, può avere un futuro perché è ancora giovane e in effetti sabato l'ha dimostrato, poi volevo anche ringraziare Mobili che come al solito ci incrociamo da tanti anni sui campi, da avversari praticamente, prima anche da giocatori e fa piacere che abbia riconosciuto che la nostra squadra comunque gli ha dato un po' di filo da torcere, così come magari ringrazio anche Stefano Senigallesi che stamattina mi ha chiamato proprio per farci complimenti, per dire il gap ce n'era tanto e invece avete fatto delle cose per assottigliarlo. A prescindere da questo, oltre a Marconi, tanti giovani interessanti che meritano attenzione, meritano di essere allenati bene perché secondo me questi ragazzi, Paolo in testa, sono molto seri, sono vogliosi di dimostrare e se noi dello staff gli diamo i sussidi necessari possiamo guardare avanti con serenità, con positività. Senti, con uno degli avversari maggiori di questi mesi che è il Covid, com'è andata? Ma guarda, noi dobbiamo ringraziare la società, lo dico sempre, non è per piageria perché ormai ho l'età per non strizzare gli occhiolini. La società è stata impagabile, ha fatto di tutto per farci allenare, ci ha messo a disposizione i tamponi, hanno fatto visite, ci sono stati sempre accanto. Poi come tutte le squadre anche noi abbiamo avuto a che fare con i positivi, con i problemi, con Cavaliere per esempio, non si è allenato per diverso tempo con la squadra, però io credo che tutte le squadre di questo campionato, ma anche superiori, devono far fronte a certi inconvenienti, a certi problemi e qualche volta dico sempre che il calcio è molto importante per tutti noi che siamo un po' fissati, ma bisogna anche guardarsi attorno e purtroppo vedere che il Covid ha lasciato tracce gravi, importanti. Benvenga che sia ripartito il calcio e lo sport perché penso che per i giovani, per tutti noi appassionati è importante essere ripartiti. E speriamo Paolo che ci siamo un po' lasciati alle spalle, questi anni davvero complicati. Beh sì, diciamo che sono stati due anni dove non si è giocato, sono stati due anni complessi, difficili, e mi auguro veramente che ora si possa continuare in tranquillità e fare, diciamo, dei campionati regolari. Ecco. Allora, io pregherei la regia adesso di mandare in onda la schermata con i tabellini e poi la classifica del girone A del torneo di promozione con i risultati della diciassettesima giornata. Barbara, Fermignanese 1-1, Filottranese, Moglie Vallesina 1-0, Gabice Gradara, Sassoferrato 2-0, K Spor Montecchio, Villa San Martino 0-2, Loreto Cantiano 2-2, Osimo Stazione, Osimana 0-1, Passatempese, Mondolfo 1-1, Valfoglia, Marzocca 0-0, Vigor Castelfidardo batte Portuali 3-2 per una classifica che vede l'Osimana in vetta a 40, Vigor Castelfidardo 31, Portuali e Fermignanese 30, Villa San Martino 29, K Spor Montecchio 27, Barbara 26, Valfoglia e Passatempese a 25, a 24 troviamo Limpia Marzocca e Osimo Stazione, 23 punti per il Gabice Gradara insieme all'Atletico Mondolfo, 19, Filottranese 16, Moglie Vallesina a 10, il Sassoferrato chiudono il Loreto a 7 e il Cantiano con 3 punti. Paolo, di questo girone andata quali le sorprese in positivo e in negativo? Bah, sorprese, secondo me una sorpresa può essere l'Osimo Stazione innanzitutto per come diciamo eravamo partiti e forse per quella che era la visione che magari le altre squadre potevano avere di noi. La sorpresa diciamo più grande che sia a parte l'Osimano un campionato molto equilibrato infatti tra playoff e playout ci sono pochi punti e quindi sarà un campionato molto competitivo fino alla fine nel bene e nel male quindi sia in zona playoff che in zona playout. Gianluca, giro la domanda anche a te sorprese positive e negative. concordo con Paolo noi sinceramente penso che tutti gli addetti ai lavori scorrendo i nomi dei giocatori sì ci davano magari come possibile sorpresa ma tutti ci aspettavano un po' al varco non è finito niente quindi noi dobbiamo star lì e non abbassare la guardia ma stiamo andando bene come dicevo. mi fa un po' specie il Loreto che secondo me ha un allenatore bravo con cui mi sono incrociato anche con lui tante volte e anche un organico dignitoso secondo me fanno un po' fatica e non li aspettavo così indietro così come non aspettavo indietro il Moie che è allenato da un mio ragazzo perché è allenato da Matteo Rossi che ho allenato tra Iesina e Biagio 4 anni però c'è tempo per recuperare c'è tempo per per ognuno per aggiustare le cose poi dicevo prima ci sono buonissime squadre che stanno recitando il ruolo che secondo me dovevano recitare Portuali Vigor Castelfidardo sono squadre forti sono squadre forti lo stesso Villa San Martino secondo me sta facendo bene noi abbiamo giocato lì anche in un momento delicato nostro probabilmente non meritavamo neanche di perdere ma mi sta stupendo la costanza dei risultati e la classifica che hanno sicuramente pregheria pregheria adesso la regia invece di mandare in onda la schermata con i tabellini e poi la classifica del girone B del torneo di promozione ultima data Aurora 3 a Monte Cosaro 2 a 1 Castignano Atletico Centobuchi 2 a 1 Centobuchi Palmenze 0 a 5 Civitanovese Portorecanati 2 a 1 Corridonia Futura 1 a 5 Maceratese Monturano rinviata Monticelli Monterubianese 1 a 3 Potenza Picena Chiesa Nuova 0 a 0 e Trudica Batte Gluentina 4 a 0 per una classifica che vede il Chiesa Nuova in vetta 36 Monturano 34 Aurora 3 a 33 Maceratese Civitanovese 30 insieme alla Monte Rubianese a 29 troviamo la Futura 24 punti per Potenza Picena e Monticelli 23 il Corridonia 22 Trudica 20 Atletico Centobuchi a 17 Palmenze e Gluentina 13 punti per il Castignano 11 Monte Cosaro 10 Portorecanati e 9 il Centobuchi Gianluca immagino che segui anche un po' il Girone B del Tornato di Promozione un dato statistico molto interessante alla fine del Girone d'Andata le prime 7 sono in 7 punti tutte vicinissime Sì anche qua equilibrato molto equilibrato forse non c'è un'ammazza campionato anche se sulla carta magari tutti aspettavano Civitanovese e Maceratese come grandi favorite però anche qui c'è da fare i complimenti al Chiesa Nuova che sta facendo benissimo la differenza di questa domenica rispetto ai due ai due gironi ho visto che nel Girone A le partite a parte una che è finita 2-0 quella che ha visto vincere contro il Sasso Ferrato il Gabice le altre partite sono finite o in parità o con un gol di scarto qua invece ci sono 3 o 4 risultati eclatanti perché ho visto 5-0 5-1 però so perfettamente com'è il Girone B è tosto anche questo lo giocai tanti anni fa con la Settempeda è vero che erano altri tempi i campi erano diversi le squadre erano diverse però so che è molto difficile quindi anche qua puoi puoi trovare difficoltà anche se sei primo con le ultime o se sei terzo con la penultima ho visto la Civitanovese che ha vinto 2-1 col Porto Recananti non è che ha maramaldeggiato e quindi è bello perché l'equilibrio la fa da padrona e qui in special modo direi come dicevi tu ci sono pochissimi punti tra 7-8 squadre senti se dovessi dare una favorita secondo te in questo Girone adesso la fine del Girone è andata o è difficile? mi viene da dire ma c'è l'attese Civitanovese scusa per tanti fattori secondo me hanno un'organizzazione Giulio Spadoni è molto bravo l'allenatore è bravo conosco anche lui bene però ecco è difficile perché ripeto il Chiesa Nuova fin qui ha fatto ottime cose secondo me mi dispiace un po' per l'allenatore perché non credo si meritasse di andarsene però nel calcio ho imparato negli anni che ci sta proprio tutto però il Chiesa Nuova ha fatto molto bene fin qua un'altra squadra nel Girone B che è partita male che sta risalendo è il Trotica giocatori importantissimi di categoria e è arrivato anche da poco un giocatore che risponde al nome di Cucu che è ovviamente in questa categoria un altro che voglio dire da pochi mesi si è trovato dalla Serie D alla promozione intanto per fare un esempio era un giocatore decisivo in Serie D a Porto Sant'Elpidio anche a Montegiorgio e si è ritrovato in promozione credo che penso per problemi di lavoro per problemi logistici eccetera però io credo che sia in assoluto uno dei più forti del campionato e il Trotica tradizionalmente ha una storia nel calcio marchigiano quindi penso che abbia fatto di tutto per rimettere a posto la squadra e non credo che avranno tanti problemi nella parte destra della classifica la ritroveremo certamente nelle posizioni che contano ecco è molto interessante capire se una squadra come il Trotica riuscirà a entrare tra le prime cinque no? perché credo che all'interno del gruppo sia un po' questo l'obiettivo quello di lasciarsi alle spalle prima possibile più squadre e guardare perché no al quinto posto sì ma credo che hanno tutti i valori tutte le possibilità di rientrarci perché c'è un girone intero e 17 partite sono tante 17 partite ci puoi veramente giocare tutto il campionato quindi io credo che il Trotica abbia la possibilità di rientrarci tra le prime cinque di fare i playoff e di essere anche un osso duro per tutti soprattutto se tutti questi giocatori importanti queste grandi firme si mettono a disposizione con umiltà perché poi come dicevamo anche prima e come ha detto giustamente Ganci o ha detto Mobili qua se non sei umile se non sei a posto se non ti prepari bene se non affronti tutte con una certa determinazione rischi di far figuracce con tutti e di perdere anche con tutti allora noi siamo nelle battute finali di questa trasmissione ringraziamo e salutiamo i nostri ospiti gli amici dell'Osimo Stazione partendo dal difensore Paolo Gigante buonasera buonasera grazie e l'allenatore Gianluca Fenucci buonasera grazie a te grazie a voi a noi non resta che augurarvi una cordiale buona serata e arrivederci a lunedì prossimo un po' di mercato preso Giuliano proprio sull'office della calcia meritato firmato un biennale spi e 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 in collaborazione con autonoleggio Alidama qualità e assistenza nell'autonoleggio i due re ristorante e pizzeria lungomare Piermanni Civitanova Marche e 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